il 2 di piccari di questa sesta giornata di campionato io partirei nel dire che intanto si è vista una proposta di calcio diciamo interessante in questa giornata di campionato partiamo dalle cose positive quindi dal 2 di cuore come classico in questa rubrica partiamo dal napoli è un napoli che comanda è il napoli di conte sempre di più lo vediamo proprio per il modo in cui sta in campo una squadra che in 45 minuti praticamente ha liquidato la pratica monza i giocatori sono partiti inferociti con grande pressione con grande voglia di fare la partita e poi nella seconda parte hanno gestito con grande autorità insomma è sempre più il napoli di conte che si prende il primato della classifica e manda un messaggio chiaro a tutti gli altri tra le cose belle ci voglio mettere il milan sì perché questa formula 4 con i quattro attaccanti con ebram con e morata con pulisic con leao piace è entusiasmante poi devo dire che gli attaccanti sono bravi anche in fase di copertura e faccio anche un complimento alle ao che spesso diciamo lo abbiamo bacchettato ma in fase di non possesso si è anche sacrificato nella gara contro il lecce insomma vuoi vedere che fonseca ha trovato la formula giusta insomma l'alchimista sembra aver trovato la strada per rendere il milan più competitivo vediamo se poi verrà adottata anche in coppa tra le altre note positive ci metto la juve che è in scia al napoli con il genoa soprattutto nel secondo tempo si è vista più fluidità nel gioco più creazione più ti rimporta coppemainers più trequartista rispetto alla gara precedente insomma il mio pensiero su motte è sempre lo stesso lasciatelo lavorare fino alla fine e poi giudicheremo tra le altre cose belle di questa giornata ci metto anche il calcio espresso dalla lazio a torino che batte una squadra imbattuta passatemi il gioco di parole la lazio che mostra organizzazione che mostra anche qualità e anche saper soffrire in un determinato momento della partita insomma baronilandia è venuta fuori lo staremo a vedere nelle prossime partite mi sento anche di dire che quel pessimismo cosmico che aveva accompagnato la lazio diciamo alla vigile di questo campionato può essere messo anche da parte mi fanno un po' tristezza quei comunicatori in casa lazio che ad ogni vittoria della formazione di baroni mettono il meno 30 dalla salvezza insomma mi sembra un po' assurda questa cosa per quanto riguarda le cose negative di questa giornata ci metto il bologna e l'atalanta che hanno un andamento sempre più lento e sono lontane da quello che erano qualche mese fa staremo a vedere e poi attenzione io ci metto l'inter ma non tanto l'inter ha vinto ha ritrovato l'autaro questo sicuramente sono le note positive però attenzione in difesa subisce troppo sette gol in sei partite l'anno scorso ne avevano rimediati nello stesso periodo appena tre insomma ci sono delle crepe difensive che possono diciamo così far preoccupare attenzione inter tra al jolly ci metto invece il bellissimo gol che ha realizzato coco il difensore del torino e con una bellissima rovesciata insomma acrobatico è veramente tutto ci vediamo al prossimo due di piccari ciao ciao